Tutta l'organizzazione è stata coinvolta, tutta l'organizzazione dell'azienda, quindi dalla parte vendita, alla parte logistica e alla parte anche di post vendita per cercare di riuscire a raggiungere gli obiettivi che ci siamo presi con lo GEC in maniera strutturale ed organizzata e devo dire che da parte di tutti i reparti c'è stata una grossa collaborazione e quindi siamo riusciti a raggiungere quelli che erano gli obiettivi che ci ha dato lo GEC ma anche quelli che ci ha dato l'azienda. Abbiamo trovato lo GEC, un partner molto disponibile e presente anche in azienda.